È importante che ognuno di noi, a partire ovviamente dalle giovani generazioni, però anche gli adulti chiaramente, possano sentire che la propria appartenenza linguistica è un valore. Il 21 febbraio si festeggia la giornata internazionale della lingua madre, evento istituito dall'UNESCO che ogni anno celebra la diversità linguistica e il diritto di tutte le persone a potersi esprimere nella propria lingua del cuore. Perché è vero che è importante imparare la lingua del paese dove si vive perché ovviamente è la base per poterci vivere, però è anche importante che a casa si possa continuare a portare avanti le proprie tradizioni, i propri valori e anche ovviamente la propria lingua con i propri figli. Come ogni anno l'associazione ACB Social Inclusion celebra questa giornata con un evento pubblico. Nella biblioteca Paolo Polezzi della scuola 4 novembre un laboratorio di storytelling multilingue rivolto in particolare alle madri degli alunni stranieri. Creeranno insieme una storia in cui ognuno di loro farà un pezzettino di questa storia ciascuno nella propria lingua del cuore, poi ecco io dico più che la lingua madre. Quindi ci sarà chi racconta una frase in bangla, chi in italiano, chi in urdu, chi in indie, insomma seconda poi della propria appartenenza e noi poi lo metteremo insieme, pubblicheremo poi questa storia nei prossimi giorni, insomma il tempo di metterla insieme. Un evento inserito nella cornice del progetto Scuola in Azione grazie ai fondi 8x1000 della Chiesa Valdese che ha finanziato anche il video Obiettivo Scuola realizzato dalla videomaker Aretina Laura Pascu per raccontare le attività svolte e quelle in cantiere nelle scuole della provincia di Arezzo. Racconta proprio tutte le esperienze che abbiamo fatto in questi ultimi 15 anni nel quartiere, ma non solo, insomma nelle scuole in realtà poi della provincia, sempre col filo conduttore dell'inclusione sociale e ovviamente anche linguistica dei ragazzi. Sono le attività, tutte gratuite per l'utenza, attraverso le quali ACB Social Inclusion persegue l'obiettivo di una società più attenta ai bisogni individuali, in cui ogni persona possa far emergere le proprie risorse e valorizzare le proprie competenze.